ciao a tutti da jgr studios il nostro canale dedicato alle lezioni recensioni e tutorial sull'audio recording non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati oggi ci occuperemo delle adam sp5 cuffie monitor professionali recensire cuffie casse è sempre molto complicato e soprattutto soggettivo vuoi per la differenza delle rooms in cui vengono collocati i monitors sia per la non trascurabile differenza che le nostre orecchie hanno e che contraddistinguono proprio il lavoro di mix e mastering soprattutto nel campo professionale per questo genere di recensioni cerco quindi di prendere in esame solo alcuni aspetti prettamente pratici e che sono largamente condivisi un po da tutti rimarrà ovviamente all'ascoltatore l'ardua sentenza ma la mia linea guida vi aiuterà a scegliere quantomeno bene nel mercato oggi ci occupiamo di cuffie abbiamo già visto in un altro tutorial che non si mixa in cuffia ma le cuffie sono spesso l'oggetto principale con cui ascoltiamo la musica l'orecchio come ogni altra parte del nostro setup va coltivato educato e soprattutto protetto ogni fonico vi dirà che quando ha iniziato ad ascoltare meglio ha mixato anche meglio prodotto meglio e fondamentalmente è cresciuto nel proprio settore diventa quindi importantissimo avere a disposizione alcuni degli ascolti migliori possibile per le nostre tasche ovviamente e magari aggiornare e fare qualche upgrade nel tempo le cuffie più utilizzate in questi anni sono state almeno per quanto mi riguarda sony mdr della serie 7506 e 7509 hd le bayern dynamics 770 e 990 pro il tutto accompagnato dall'eccellente software di sonar works per la taratura dettagliata del suono sono tutte cuffie molto impersonali adatte quindi al lavoro di recording editing e abbastanza dettagliate da permettermi editing molto accurati sono cuffie che si trovano in un range di oltre 150 euro al di sotto di questa fascia non ho mai trovato cuffie all'altezza di questo compito anche se comunque utilizzabili un piccolissimo consiglio ho trovato tantissime di queste cuffie clonate anche esteticamente bene sul mercato dell'usato su ebay o in altri studi di registrazione che le bistrattavano occhio quindi che spesso quello che viene spacciato per originale trova al suo interno materiale scadente e pessimo parlo soprattutto della serie mdr della sony ormai fuori produzione tornando alla nostra recensione i fattori più importanti a cui voglio far riferimento sono fondamentalmente due ossia la definizione del suono e lo stress sull'orecchio questo perché sono spesso costretto ad indossarle per ore ed ore e non posso permettermi di avere un orecchio stanco solo dopo poco tempo inficiando soprattutto il lavoro di bilanciamento nel mix questi due fattori li applico in egual modo quando giudico un paio di casse monitor il prezzo in questo caso è irrilevante perché come ogni altro produttore ho bisogno di uno strumento in grado di fornire un lavoro al massimo degli standards e a volte anche oltre una volta trovato lo strumento giusto sarà poi il caso di iniziare a mettere da parte i soldi per poterlo acquistare il discorso cuffie aperte o cuffie chiuse è da imputare secondo me solo ad un uso pratico della cuffia se stiamo registrando è sicuramente meglio averle chiuse per evitare quanto possibile di far rientrare l'audio della base nel microfono in recording la cuffia chiusa ha anche un certo incremento dei bassi dovuti proprio alla propagazione ed in base anche alla qualità della cuffia stessa ed in base anche alla qualità della cuffia stessa a volte vengono frenati e poco bilanciati non a caso sia un effetto in ear sgradevole se si cerca la definizione migliore le cuffie aperte come anche gli in ear aperti aiutano ad assorbire i bassi in maniera differente rendendo tutto più lineare anche se di contro c'è che tutti intorno a noi ascolteranno quello che stiamo facendo quindi poco isolamento le soluzioni migliori vengono quindi proprio dall'uso e dalla tecnologia degli in ear ossia usare due o più driver per poter dividere le emissioni dello spettro su diverse sorgenti un sistema quindi basato nella realizzazione degli in ear professionali ed ovviamente più costoso lo stesso principio si può applicare anche alle cuffie da studio con un certo dispendio di tecnologia quindi di costo ma forse è la soluzione migliore da adottare per avere un ottimo bilanciamento generale adam ha quindi cercato di prendere in esame uno dei migliori produttori di questi sistemi la ultrason e ricreare attraverso la loro tecnologia la stessa o quantomeno simile risposta in frequenza delle loro flagship monitor la serie s la adam sp5 sono quindi delle ultrason leggermente modificate per avvicinarsi alla risposta delle s3v che negli ultimi anni hanno spopolato tra le reference monitor di nuova generazione cerchiamo ora di uscire dal marketing e di capire cosa realmente fanno queste cuffie le adam pro sp5 sono delle cuffie chiuse dal padiglione medio in stile mdr 7506 adatte alla maggior parte dei padiglioni auricolari che aderiscono molto bene alla testa sono in plastica per garantire un'ottima indossabilità evitando di sentirle quindi pesanti sin da subito e sono foderate in finta pelle di ottima qualità sia sui padiglioni sia nella parte che appoggia sulla testa permettono quindi grazie alla loro leggerezza una indossabilità ottimale anche al cantante più movimentato l'isolamento è incredibilmente perfetto anche ad alto volume difficilmente finirà nel microfono che sta registrando un applauso quindi ad adam ea ultrason per questo le cuffie sono fornite con un astuccio rigido adatto ai viaggi e allo stoccaggio nel bagaglio sono corredate da due cavi per l'uso mini jack e jack standard e dispongono di un buon sistema di snodo per poterle tenere agevolmente intorno al collo senza strozzarsi un sistema studiato molto bene a tavolino per far contenti tutti i fonici live e non ma veniamo alla descrizione del suono sia la parte più importante le sp 5 vengono prodotte con una risposta in frequenza da 8 a 32 kilohertz non tanto per farci ascoltare quelle frequenze ma per garantire al meglio una risposta sulle classiche 20 20 mila le basse sono forse la cosa più sorprendente di queste cuffie finalmente dopo anni riesco ad avere una risposta lineare e dettagliata sui bassi dai 100 hertz in giù che prima mi costringeva a continui salti di cuffia per capire cosa stava succedendo realmente questo grazie al sistema s logic della ultra zone che garantisce un bilanciamento migliore sul segnale stereo in questo modo si ottiene una attenuazione del 40 per cento in spl e quindi all'aumento del volume la linearità verrà sempre rispettata le alte frequenze se comparate alle classiche mdr che risultano sempre un po' harshi nelle sp 5 risultano più delicate e morbide come accade con le dt 990 pro anche se le dt 990 peccano sui medi poco generosi perfettamente rispettati invece sulle adam ultrasone per cui se veniamo dagli ascolti sony abbiamo una risposta sulle alte simile ma più chiara e meno fastidiosa se veniamo dalla bayern dynamics noteremo un maggiore presenza delle medie frequenze una maggior presenza delle medie frequenze quindi una definizione della voce più chiara le cuffie hanno un'impedenza di 70 ohms e necessitano quindi di un buon preamplificatore noteremo quindi tantissima differenza qualora le intercambiassimo tra schede audio e schede audio è il caso quindi di fare attenzione a come le testerete il mio test è stato fatto con uscita cuffie della scheda rme ufx plus e presonus quantum 2 e già tra l'uscita cuffie di queste due schede professionali ho notato una grande differenza le cuffie pesano 300 grammi circa hanno una sensibilità di 95 db a 1000 watt per orecchio possiedono 5 anni di garanzia due standard e tre opzionali dopo la registrazione del prodotto in questo frangente sono quindi le più bilanciate senza enfatizzazioni dovute al mercato o al marketing puro in cui normalmente navigano le beats o la sony stessa sono quindi particolarmente indicate per evitare stress all'ascolto uno strumento più che definito per missare ma soprattutto per educarci ad un ascolto migliore della musica che acquistiamo o che utilizziamo come reference prima del mix o del mastering in queste settimane le ho utilizzate per diversi scopi tra cui il mix balance e il mastering balance ma soprattutto sono state apprezzate da musicisti e cantanti che si ascoltavano in maniera più chiara e bilanciata riuscendo quindi anche a migliorare la performance mentre cantavano un valore aggiunto per questo strumento in conclusione le adam sp5 sono state apprezzate da tutti da me come fonico come dai produttori con cui collaboro nonché i cantanti che ci hanno registrato mostrando quindi un feel e delle performances migliori la comodità è indiscussa come anche l'isolamento assolutamente eccellente in fase di recording perfetto per l'ascolto in cuffie per le fasi di premix grazie sempre alla tecnologia s logic di ultrason regalano un sound stage degno di nota è difficile quindi trovare un difetto tutto sembra studiato per soddisfare i palati più fini il prezzo le colloca nella fascia pro ma è un sacrificio che mi sentirei di far fare anche se mi trovassi nella fascia semi pro per abituarmi ad educare al meglio l'orecchio in assenza di monitor professionale sperando di aver smosso la vostra curiosità vi consiglio di provarle e pensare sinceramente ad un upgrade del vostro setup spero che questa review vi sia stata utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata verrete a contatto con le mie tracce affronteremo i vostri mix insieme e le finalizzeremo nella fase di mastering continuate a seguirmi su facebook youtube e music off non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di supportare il mio canale patreon per il momento è tutto ciao a presto insieme a tutti Grazie a tutti